Essere un turista, un giovane o un anziano che domicilia al centro storico di Agrigento e non ha mezzi di trasporto propri risulta alquanto scomodo se dovesse decidere di prendere la famosa circolare per andare al mare o in un altro posto di domenica o in un giorno festivo. Il perché è spiegato dal fatto che la domenica le corse della linea verde, che ha come capolinea la piazza Plebisserea, prevede un numero di fermate altamente scarso per quanto riguarda la mattina, mentre nessuna per il pomeriggio. Un disservizio che comporta il dover recarsi a piedi verso altre zone cittadine, apprendendo l'autobus, la cui fatica forse sarà di meno all'andata, ma lo sarà notevolmente al ritorno se si considera che il tragitto è per lo più in salita e soprattutto se si è attrezzati di ombrelloni, seggiole e accessori vari per i bambini. Una disavventura capitata proprio ieri, domenica 25 agosto, ad un gruppo di turisti, i quali per prima cosa hanno atteso circa 40 minuti per capire a che ora sarebbe passato l'autobus e infine si sono recati a piedi in piazza Le Rosselli, non essendo riusciti a trovare informazioni esaustive né sul sito internet della tua né sul tabellone della stessa fermata, ormai vecchio ed obsoleto. Infatti un altro problema riscontrato è che la stessa fermata della Biberia risulta sprovvista del nuovo codice QR, che consente tramite l'applicazione della stessa impresa di trasporti di verificare in tempo reale dove si trovi l'autobus atteso e l'ora del suo arrivo. Una dimenticanza che la città di Agrigento, che si profetizza a vocazione turistica, non può permettersi, tantomeno nel suo centro antico da dove tutto ebbe inizio e da dove tutto dovrebbe ripartire.